Quanto vorresti perdere? Tre taglie in pochi secondi? O sollevare e rastodare il fondo schiena rilassato all'istante per un look sexy? Persino piattire la pancia senza alcuna fatica? Oggi è possibile senza dieta, né esercizi, né chirurgia estetica o pillole dimagranti. È arrivata la nuovissima Slim & Lift Supreme Comfort di Punto Shop, la straordinaria guaina snellente che elimina i centimetri e i chili di troppo all'istante. Con più di 10 milioni di pezzi venduti in tutto il mondo, la tradizionale Slim & Lift è stata una vera rivoluzione per il look femminile. Oggi i designers di Slim & Lift hanno reso questa fantastica guaina modellante ancora migliore. Grazie ai recenti progressi scientifici nel campo della tecnologia delle fibre naturali, Slim & Lift Supreme Comfort è realizzata in bambù. È una delle più innovative scoperte nell'industria della moda. Le singole fibre di bambù sono incredibilmente morbide e naturalmente porose, per aiutarti ad assorbire l'umidità della pelle lasciandola asciutta e fresca. Slim & Lift Supreme Comfort è più traspirante, più flessibile, più confortevole ed ha un'efficacia snellente e modellante ancora maggiore. Le vecchie guaine hanno scomodi supporti o tagliano il punto vita evidenziando antiestetici rotoli o arrivano a metà coscia creando quell'orribile effetto a salsiccia. Slim & Lift Supreme Comfort è senza cuciture ed offre un'azione modellante a 360 gradi. Elimina persino i rotoli sulla schiena per un look uniforme. Indossala e in un istante, chili e centimetri di troppo verranno distribuiti uniformemente per una linea soda e sexy. È una seconda pelle invisibile che modella il tuo corpo. Puoi persino indossare i pantaloni bianchi senza che si vedano le cuciture. Anche se non hai dei chili in eccesso, ma sei in lotta contro i problemi della gravità, la nuova Slim & Lift ti regala la silhouette snella e compatta che sogni da anni. Il segreto sono le 12 aree snelletti. Slim & Lift Supreme Comfort è progettata per agire sul problema di ogni specifica area, modellando la tua silhouette dal sottoseno fin sopra le ginocchia. E questa comoda fascia speciale ti garantisce che la guaina non scivolerà giù mai e poi mai. Slim & Lift Supreme Comfort è adatta a tutte le donne, dalle minute a quelle più formose. Slim & Lift Supreme Comfort è un prodotto di alta qualità e valore commerciale, che oggi, grazie a questa esclusiva offerta a punto shop, puoi avere al prezzo eccezionale che vedi in sovraimpressione. Ma c'è di più. Per te, un'occasione straordinaria. Chiama subito e riceverai in omaggio una seconda Slim & Lift Comfort di colore nero. Hai capito bene? Una seconda guaina di colore nero. Per te. Gratis. Ora anche tu puoi avere la complice di bellezza che le star di Hollywood indossano da anni. Non aspettare. Chiama subito punto shop e al fantastico prezzo che vedi in sovraimpressione, riceverai una guaina Slim & Lift Supreme Comfort di colore beige, della taglia adatta a te, più una seconda Slim & Lift di colore nero in omaggio. Solo per te. Solo se chiamerai adesso. Approfittane subito. Scegli Slim & Lift Comfort di punto shop, la tua invisibile complice di bellezza. Chiama ora! Chiama ora!